Kilometri di cote dalle prime luci di questa mattina lungo il tratto a retino dell'autostrada della Sole dove pochi minuti prima delle 6 si è verificato un attamponamento tra due mezzi pesanti. Lo schianto tra i tir è avvenuto tra Arezzo e Monte San Savino in direzione sud nel tratto della 1 che si trova nel comune di Civitella in Val di Chiana. Sul posto sono scattati immediati soccorsi del 118 che hanno preso in carico l'unico ferito, un 31enne di origini napoletane che si trovava alla guida di uno dei due mezzi pesanti. L'uomo è stato trasportato all'ospedale senese delle scotte in codice rosso a bordo di un'ambulanza per un tram all'addome e uno al torace. Intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco di Arezzo per estrarre il conducente del mezzo che aveva tamponato l'altro tir. I pompieri hanno tagliato le lamiere dell'abitacolo che lo avevano letteralmente incastrato. Sul posto infine anche la polizia stradale per i rilievi di legge. L'incidente inevitabilmente ha provocato pesanti conseguenze anche sul traffico per alcune ore con code sino a 7 chilometri.